Si è tenuto oggi un concistoro ordinario pubblico per la canonizzazione di 36 beati, tra questi i due pastorelli di Fatima che saranno proclamati santi il prossimo 13 maggio, gli altri 34 beati invece il prossimo 15 ottobre. A dare l'annuncio è stato lo stesso Bergoglio, sentite la nostra scheda. È iniziato alle 10 nella sala del concistoro alla presenza del Papa con la celebrazione dell'ora terza e il concistoro ordinario pubblico per la canonizzazione di 36 beati, tra cui i due pastorelli di Fatima, Francesco e Giacinta Marto. Oltre ai due pastorinos di Fatima proclamati beati 17 anni fa da Giovanni Paolo II, vengono canonizzati oggi tre adolescenti martiri, Cristoforo, Antonio e Giovanni, due sacerdoti diocesani, Andrea De Soveralle e Ambrogio Francesco Ferro, martirizzati insieme ad un laico, Matteo Moreira e 27 compagni. Nella lista dei nuovi santi figurano anche Faustino Mighez, fondatore dell'istituto Calas Anziano delle Figlie della Divina Pastora e Angelo da Acro dell'Ordine dei Frati Minori Capuccini. I due pastorelli di Fatima dunque saranno proclamati santi il 13 maggio, lo stesso Bergoglio lo ha annunciato in latino e proprio il prossimo 13 maggio Francesco sarà in viaggio apostolico a Fatima. Il santo padre nel corso della sua visita in Portogallo in occasione del centenario delle apparizioni mariane li eleverà al culto della chiesa universale durante la celebrazione eucaristica prevista nel piazzale davanti al santuario di Fatima. E' a Giacinta e Francesco che allora avevano 9 e 10 anni che insieme alla cugina Lucia dos Santos apparve la madre di Dio il 13 maggio 1917 e riapparve loro ogni 13 del mese fino all'ottobre di quell'anno. Grazie. 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 Grazie.